Il giorno e la storia. Oggi è l'8 febbraio. 1849. Proclamato a Firenze un governo provvisore. 1943. Gli statunitensi vincono a Guadalcanan. 1587. Giustiziata Maria Stewart. Commenta il fatto del giorno Maurizio Cattaneo, direttore dell'Arena. Oggi ho deciso di parlare di James Dean, una figura, un'immagine moderna sul disagio giovanile che vale ancora per quello che succede oggi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.